Watch out for the trees Che significa però dobbiamo seguire i rami o dobbiamo stare attenti agli alberi? Vabbè seguiamo... Oh merda! Che cazzo è? Ok siamo nella merda fino al collo però... Però... Volevo vedere il suo cadavere ma è sparito Già Volevo vedere sul suo cadavere Esploriamo? Sì Ma questa stanza a sinistra non l'abbiamo fatta 15 sciallettoni più quelli che ci ho già caricati Qua è fatto secondo me No questa qua non l'abbiamo fatta Infatti Che cazzo è? Che cazzo è? Vai tu che c'hai lo shot Che cazzo è? Oh! Presa No! Ah! Madonna Siringa Dammela Eh io c'ho 0 dimmi da quanto c'ho? C'ho 30 No dai subito, falo subito Tu c'hai 30 dai Hai 3? Io c'ho 30 C'ho 10 volte la tua vita Madonna che incubo questa scena Ma non è sostenibile Ok non ho proiettili, non ne ho proprio e te lo dico E' pia di un'arma allora Vuoi la pistola, la shotgarn, il cazzo in culo che vuoi? Quello che vuoi tu vai Moda il linguaggio Inizia di aprire la pistola, poi me la ritai Dov'è? Te l'ho droppata Dov'è la droppata? Forse sotto questi poligoni Non c'è la pistola, Emilio Ho perso la pistola Te l'ho droppata qua, ero qui Non c'è, non c'è Premi e spasmodicamente ovunque Non c'è niente No ti prego No ragazzi ma non si può giocare così Non c'è niente Niente lo capisci Ma a proposito No ragazzi Ma noi da dove usciamo? Da qua Ok E non si rompeva prima No ragazzi ma non c'è la pistola non si può giocare Vai vado di ramo non ti preoccupare O dammi un'altra arma però troppa la fuori No non te la vuoi Non ti droppo più niente Jack Lo perdiamo Ho paura E allora armati però eh Qua c'erano le bestie Forza Vai Eh vai io c'ho il ramo Dove vado? Vai vai tu Jack vai avanti Dove siamo caduti? Qua C'è il micidiale trappoloschi eccolo Ma la fa mok E quindi Ah giusto Coraggio Paura eh Una porta Ok Qui potresti buggarti sei pronto? Vai 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 Vami buggare vai Ah door is locked by a keypad Potrebbe anche essere il piano di sotto eh Forse non ho prova ad aprire tutte le porte Jack Ma vuoi vedere che dove siamo Dove siamo caduti forse Bisogna anche provare ad aprire un po' tutte le porte eh Un po' Un po' Ma è esponato così? No noi non ce la siamo fatta questa parte ci siamo detti saliamo subito ti ricordi? Ah giusto ok va bene C'è che apparentemente Non c'è una sega qua Piano di sopra o di qua? Qua abbiamo fatto Quindi piano di sopra Eh rifacciamo in modo sistematico Niente è qui La porta qua non si apre Oh Jack Che c'è? Jack Dove sei? Dove sei? Vieni Duderino Wow che fregatura Secondo me si è aperto dopo Oh mio Dio Aiutami Sparavo No non voglio morire Fagli palpeggiamenti sul balcone Oh si Ok Che voglio di andarci Ovviamente Ah guarda Non puoi saltare giù Ma là andiamo Eh si Ah Munizioni per la shotgun Andiamo per la porta? Cioè per quale finestra entriamo? Prendi questa vai Stanno le munizioni almeno Allora Prova ad aprire quella porta No Fine Erano solo le munizioni Allora di qua vieni Vai giovinotto Qui ci faranno l'imboscata Perché a sinistra Perché a sinistra c'è una porta aperta Mi sto baggando di brutto Perfetto Perfetto La mappa Ah Shortcut Si Shortcut Let's go dude E scusa il tastierino Ebo Ebo Allora Coraggiato Tocca a te qua Abbiamo finito la sezione secondo te eh Guarda il bel cancello Ok Io c'ho tutto a zero Mi servono munizioni Sono due caricatori di pistola io A me io devo raccogliere le munizioni Quindi Magari lascia Ok vai avanti tu che c'è lo shotgun E qua sarà un inferno Senti che silenzio proprio da D'angoscia Manca un suono Coraggio pancrazio Se non avere paura Ma vaffanculo Ma vaffanculo Sono in merda Ma perché c'ha sta gamba sbilenca Coraggio si è ripreso Non lo so Jack Non muore eh Ma il cazzo è il gioco deviato C'è qualcosa di profondamente sbagliato In tutto questo Comunque quando ti giri sei bellissimo Quando stai fermo Esatto Certo sti poliziotti Vengono pagati una miseria Per fare tosta missione di merda qua Ah ok Che succede qua? Che cazzo è qui? Sono forte? Oh mio dio Ok Ce l'hai fatta? Si si Ovviamente Mori merda Oh mio dio E' dietro Sono 18 Sono 18 manifestanti Vedi? Vaffanculo Anche lui vuole il reddito di cittadinanza Jack Ah questo vuole Questo vuole la droga libera Via Questa è un'altra Ancora E' proprio la manifestazione Voglio la tavoca Dattemi la tavoca Mi prego Dattemi la tavoca Jack comunque Sai pure cosa mi ricorda? Cosa? Che mi piaceva tantissimo Deadly Premonition Wow Bellissimo Che cazzo? Che dobbiamo fare? Dobbiamo saltarlo? Sennò è morta certa Emplita rifiuti cos'è? Beh non ci voglio andare lì Ci sei andato? Come ci si sente? Vieni vieni scendi scendi Si entra anche? No muore stai attento Sono morto Sono morto anch'io Ma che cazzo significa? Vaffanculo Io c'ho un sacco di proiettili adesso invece Io non ho più niente Aspetta un attimo di silenzio Che c'hai? Solo la pistola Un attimo di silenzio perchè Voglio cagare sotto Sculo Ah no questo suono Ok manganello Ah no adesso c'ho il bastone Non c'ho più il manganello Ok Andiamo Ci sei? Ok Occhio Avanti e dietro Io vado all'altro lato Perfetto Ecco gli studenti Vogliono le aule studio per cazzeggiare Vogliono più date d'esame Guarda eccoli qua Eccolo questo Ma questo non c'era scritto sul programma Questo vuole fare l'Erasmus guarda questo qua Spagna Portogallo Silenzio Volevi chiamare adesso di mille randellate Ahahah E adesso Ma questi suoni devo dire proprio dolby atmos Si passa quando si chiudono e me? L'importante è stare davanti alla porta che si apre Capito? Ci sono Sono morto Come cazzo ti rivivisco là? Temo che tu non possa riviviscere Invece si Spostati Spostati Mi sono spostati Perfetto Questo ci ha un altro tempo ancora Vai 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 Aspetta Un po' mamma rogarmi quando ci vuole Ciao E se qui non sono nemmeno stanze sono chiuse Sono murate Ok Tocca a te Le porti sono tue Pensavo si aprisse Vabbè più claustrofobica però è più concentrata devo dire Eh almeno si Almeno non c'è il problema lappa Ah Oh mio dio Qui andiamo a casa di quello delle motosegue Oh no No nata foresta no Qui c'è un Dove cazzo dobbiamo andare? Emilio qua c'è una parete di bosco guarda Si Che non si può raggiungere vero Dove cazzo dobbiamo andare? Aspetta un attimo Qua c'è un sentiero C'è anche C'è anche un ramo vedi che ti indica il sentiero Sembra un po' Blair Witch Project qui Porta Pronto? Speriamo che abbiamo finito la parte 2 C'è una bestia Alla bambina C'è un'altra No Watch out For the trees Ah Che significa però dobbiamo seguire i rami o dobbiamo stare attenti agli alberi? Vabbè seguiamo i rami Oh merda Che cazzo è? Che cazzo è? Non è che ti fa danno se scende? No mi ha tolto 30 di vita cadendo credo non lo so Che cazzo è? E quindi come riconosciamo che sono alberi? Da dove è caduta esattamente lei? Non si vede? Da questa foglia qua vedi da questa È caduta da un piano di texture Puttana Cioè come li riconosciamo questi alberi che sono questi alberi? Cazzo seguiamo questi rametti va secondo me Però ci vuoi andare a esplorare eh? Ah porca puttana mia Ti ha ferito? Si Ah ok fanno male allora perfetto E allora non ci conviene andare a esplorare Vuoi aprire questa porta che vuoi fa? E cazzo fa ... Non c'è niente dietro Era tutto finto Sono delle texture dietro Proseguiamo a seconda di secondo che dovrebbe seguire gli piccati proprio invece ci cagheremo sotto altre 20 mila volte il livello secondo me sarà tutto così qua e vai vai se quello con più vita attento agli alberi secondo me questo è incriminato quale no no scendono proprio a caso jack guarda si scendono a nulla non possiamo sapere niente vabbè dai non possiamo fare questo si basta vai comunque tu avanti che c'hai più vita non più ma questi alberi ci uccideranno lo sai vero ma che senso c'ha eccolo qua eccolo si va bene ciao 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 ciao